Allora, Bellamy, oddio boi, Dylan Girantes, vaffanculo Ruki Momogyan, questa è una squadra futuribile Dylan Girantes Finnegan, ok Dai, guarda la truppa Dove siamo? Ah, San Juan, ok, 5234 Dio, cane Girantes Farò morire ancora Eccolo Momogyan Ruki Molto buono Finnegan, altro rookie Eh, tosta sta squadra Andiamo prima a vedere un attimo No Momogyan, Finnegan, Granfeld Me ne ricordo, tirano tutti, tutti, Henning Vava fuori 77 Uh, Hamilton Goddard 68, ok Goddard Goddard, Edelman Seyland Seyland, dai Goddard, Edelman e Seyland Goddard Edelman E Seyland Che tanto non giocherà mai Da marcare stretti Da marcare stretti Eh, pressione sulla palla Pressione senza palla Stretta No, pressione sulla palla Stretta Qui stiamo stretti sempre Su Girantes Adesso, paura Momogyan, altro attiratore Che azzè Andiamo Che belle le magne Di Di Condors Hai vinta una Dai Di chi Momogyan è stronzo Questo è il futuro Questo è Un attaccante Del futuro Dai Ma è per Austin Il culo va Porco Dio ragazzi C'è 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 Ripigliamoci Questo 6-0 Non mi è piaciuto Bravi Porca puttano Niente ragazzi Ok Ok tagli Bravi In difesa Mamma mia No 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 Regà No no Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo Loro Loro ha segnato un botto Io ho segnato pochissimo Questa è la distanza Bravi Bravo Bellamy Bravo Bellamy Dai Grande palla La stile è stata di Non l'ho visto Forse Austin È che hanno tutti I lunghi tiratori Tutti i lunghi tiratori Non ne posso lasciare uno Avanti Avanti Dai Ma No Non è fallo No vabbè 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 Il non fallo qui È clamoroso Clamoroso Vaffanculo Clamoroso Sì Tego Bravo Bravo Tego Bella Bellamy Sì dai Vabbè Fermabili Fermabili Bravo Bravo JD Bravo JD C'è i punti Dai ragazzi Melody Sì dai Ragazzi Cos'è Boh Che cazzo Ho sbagliato Vabbè No Non so che percentuali Hanno questi 22 punti Vabbè Vabbè Non ci credo No dai Bellady Mamma mia ragazzi 22-11 Che cazzo Di primo tempo Quest'anno va così ragazzi Quest'anno andiamo sotto E se ci va bene Recuperiamo Dai 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 ragazzi No dai Non ci siamo Bravo Bravo Passare Bravo Tego Con la mano giusta Almeno Eh Bella Palla Saba Mi dobbiamo andare i parziali Ragazzi O parziali O qui affondiamo Eh vabbè Fanno il cazzo che vogliono da me Il cazzo che vogliono fanno Bravo Bravo Sabao Loro sono una bellissima squadra Soprattutto a livello offensivo Poi io sto sbagliando tanto Perché è vero Perché è vero Sì Spacca tutto Raggrace Mi servi Mi servi Mi servi Dove sei Dammi la scorsa Grazie Grazie Let's go Dai Non vogliamo niente 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 Attenzione al posto di Finnegan Che è bravo Avanti Non vogliamo niente Ma parola che ci sono iniziati a fare questo. Questa è una cosa grande per l'interno. Noi scuola. Ma un malice di caliore, devi finire questo. Devi avere un'imperto il rispetto. Voi 4 secondi che vanno a dare. Non è un'imperto! Dai, dai che ne siano sbagliare anche loro, cazzo In comando Si sveglia René Meno tre René Grace, come Michael Jordan Dai ragazzi, però ci vogliono tutti insieme a lui Tutti insieme a lui Eh, santo Dio, santo Dio, santo Dio Santo Dio Easy, man Bel blocco Bel blocco, super blocco del Nogre Quattro punti Quattro fottuti punti Dobbiamo marcar bene ragazzi Non è vero, non è vero René Non è vero René, non è vero René Occhio il taglio, vieni, 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 buono Va bene Bel fallo, bel fallo, bel fallo Avanti, Girantes che sbaglia il libero Grazie Creando Grazie Pareggio Incredibile Incredibile Adesso giochiamoci all'avviso aperto Dai Porca puttana Bravo Scurro Occhio Tegu Te lo sei fatto scappare lì Lì te lo sei fatto scappare Bravo JD Bel taglio Bravo JD bel taglio Porca puttana ragazzi Girantes Mamma mia Girantes ragazzi Mamma mia Girantes invece Che rottura di cazzo Va bene Perché se no 61-64 Ok 11 di Girantes 14 di Grace Rimbalzi stoppati 2-0 Non ho ancora tirato un tubone Incredibile Bambini Bambini A Bambini Bambini Uniphone Bambini An Bambini Bambini Uniphone Sì, bravo Wesson, bravo Walshon Di te non parlo, Grace, e di te non parlo, Austin, perché veramente sei troppo un generale Avanti, terzo preso oggi, terzo di Austin Che fattore che sei, che fattore che sei, Stanley L'unico rimasto dal giorno 1 fra i titolari Peccato, peccato, era un tiro da prendere Ma, scusa No, no, si sta, volevo solo vedere come è arrivato, coso L'aveva intercettata con le dita Sì, vabbè Vabbè Sì In faccia, glielo arriviamo subito a Granfield Che bello Porco Dio, ragazzi, è marcabile È immarcabile sta persona Nooo, che brutta cosa che ho fatto Bella, ma Austin, che difesa hai fatto Oh, peccato Staccato, ripigliare un po' di largo Mamma mia Niente fa Mai, non sono andato in lunetta una volta Forse all'inizio, basta Puttana, madonna Santo Dio Come si fa a tirar così? Tutto il tempo del mondo Le scorrene Dai Mi devi tenere, mi devi tenere Mi devi tenere Bravo, René Sì, Bosch Sì, Bosch Meno uno Ma basta Un uomo davanti anche Cioè Oh, ragazzi Come stanno tirando questi Mai un fallo Mai un fallo Anche adesso mi era attaccato al culo Praticamente Guarda Guarda Vabbè Vabbè Continuiamo così Madonna Vabbè Così Così non Non è possibile Così non è possibile Fa quasi ridere Cioè Sì L'amico Sì L'amico Alcò Sì L'amico Un'amico Un'amico Sì Oh tana madonna ragazzi No no ho ottenuto un fallo che sia uno Che sia uno Let's go Dai meno due Bellissimo dripling sull'angolo E via Ah io ho enfasi difensiva Ok dobbiamo entrare in sezione automatica Niente triple Proteggi il perimetro Farei niente triple E amen Giocano con i triploni Dai dai Cazzo dormi Tego Cazzo dormi Tego Cazzo dormi Tego Bellissimo Bravo Bravo Elega Tego Eh sì Dai va bene Porca puttana Che razza di percentuali Che hanno questi Adesso Dio Davanti Bravo bravo tutto bravo tutto meno uno guarda che match ragazzi hanno un attacco della madonna della madonna veramente della madonna tuttana ragazzi ma io veramente io veramente sbaglio e rimbalzo in attacco con l'aria piena porca due si Tego bravo Malik male rimbalzo non mi siete stati piacendo sotto canestro avete concesso un botto di rimbalzi bella bella di scuro porca troia ragazzi mi sto sto proprio sbagliando sto proprio sbagliando sto proprio sbagliando porca troia stagliando Vaffanculo Stanley Vaffanculo Stanley Poteva essere la ciliegina Stan Porca troia Vabbè peccato Mai tradito Bravo Vosh Così Così no Bella palla Bellami Bellissima palla Bellami Mi ero quasi Pentito di aver fatto Sto passaggio Attenzione Girantes Attenzione Marshall Sempre attaccati Multano ragazzi È incredibile È incredibile Veramente È incredibile Quel giocatore C'è il porco Stan Peccato Peccato Bravi Mamma mia Girantes Ragazzi Infinito Che giocatore Sgorene Super difesa Amici Is at its highest Timeout Colombo Columbus They lead by 2 157 left of the board Si I love you Miss care Crafty Chalpa ogni volta è così ogni volta è marcabile quando succede una volta così potrebbe essere il caso ma tutte le volte ancora sì però c'è mamma mia computer comunque quanto è stronzo quando fa ste cose guarda a meno e due ma cosa cazzo ho visto ma cosa cazzo ho visto ma non gli dà il fallo in due ma cosa cazzo devo vedere ragazzi sì bravo Grace bravo Ryan è bellissimo tutti da soli ragazzi sono tutti da soli non ce n'è uno marcato così non si fa un cazzo niente peccato tutti da soli bravo Bosch bravo meno uno sì bene Sì Madonna ragazzi vado giù di testa Difesa Sì 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 Bella D40 Avanti Che schifo ragazzi Due rimbalzi in attacco hanno preso Due rimbalzi in attacco hanno preso nel finale Due rimbalzi in attacco nel finale ragazzi Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Che roba scritta cazzo Che roba scritta Porca puttana Che roba scritta Che roba scritta Avanti Madonna raga che cazzo ho vinto Non ci posso credere Tutti su Grace Aspettando l'ultimo tiro per lui No grazie taglio Da campione vero Vabbè ma Grace che partita ha fatto Ci andiamo a vedere subito Madò 32 32 Ancora una volta sopra i 30 9 per Tego in 8 minuti 8 per Nogre 6 per Wesson 5 per Scurriano 4 per Bellamy Nogre senza stoppata Chiuso è una novità Di qua 17 di Girantes 10 di Hamilton 8 di Granfeld 7 di Dillon 55 65 33 36 3 volte in lunetta Sono stato sotto di 11 Io il massimo vantaggio Un punto Incredibile Andiamo a vedere Lista premi Ora Rene davanti Anzi guardiamoci dopo perché adesso facciamo così Aspetto giornaliero Qui le abbiamo fatte tutte Qui abbiamo simula 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 Madonna gioco con tutte Sta cassa di giornata Come 82 punti I Foxes 17 per Liggins 18 Wily 16 Girantes Quindi 2-6 I Foxes 4-4 I Polar Bears battono gli Hammers 5-3 per i Polar Bears Il team meno vincente Più perdente della storia IBL 15 per Sellers 24 PFT 24 PFT 1-7 Gli Archangels I Ducks 5-3 12-20 Di Cardell I Tomahawks battono gli Outlaws 7-2 Outlaws Perdono una Contro i Tomahawks 11 Con i 19 di Eris Grinier I Tanks Schiacciano i Dynamos 14-16 di Sanon Di qua 19 di Samba Sambitoviana 73 Lambergex Battono gli Horses Quindi Una sconfitta per gli Horses Uno dei team migliori 15 di Natiasco Non bastano 17 Devon Boot Poi Madonna I Pirates Battono i Diablos 5-3 per i Pirati 20 di Quonsailas 13 16 Questa la dovremmo vedere Gli Scorpion 80 punti Contro i Cyclones 14 23 di Chandelier Gli Aztecs Perdono di un punto Con i Nightwolf 14 di Baron Reed 13 di Magistrale 14 di Roland Guerrero I Blizzard Tornano un po' a vincere 21 di Pop 16 di Nuli I Wranglers 6-3 Sharks 6-3 Due squadre in forma 16 di Buckner 16-6-6 Mamma mia 12 di Colby Nel finale I Toros 8-1 Battono anche i Reign I Toros 8-1 Battono anche i Reign 4 giocatori In doppia cifra Mamma mia Ora andiamo a vedere La lista premi Grace è davanti Neff Silas Colantesi Sanon Matricola dell'anno Yenawain Momogian Damaskinos Sesto uomo Safak Shengun E Slavceva Difensore dell'anno Mike Delas Perde punti Fonso Giocatore più migliorato Patroclo Guardiamo un attimo La classifica Quadro playoff New Jersey Outlaws 7-2 San Juan Barracuda 6-2 Lexington Orsis 6-3 Ok 3 in peggiori Abbiamo 1-7 Gli Archangels 8-1 I Toros 6-3 6-3 5-3 4 E tra i peggiori Battle Rush Cyclones 2-6 E i Tropics Che si devono riprendere Ad ogni costo Aplaudire 5-4 3-3 6-6 8-9 10-8 11-9 12-9 13-9 12-9 11-9 16-9 13-9 14-9 15-9